Anche oggi qui a Teleseterme per questa prima edizione del trail delle doline di Monte Pugliano. Bellissimo evento, l'ennesimo che si aggiunge alla 10 che si fa ogni anno a giugno, alla mezza di ottobre, alla bellissima gara che si è avuta il mese scorso a Parco di Grassano e un crescendo di eventi che sempre di più prende un po' questa attività della Valle Telesina. Il Telesia Running si impegna in queste attività e dobbiamo dire che ognuna di queste gare tenta a far conoscere il territorio. Quella di oggi è una prima edizione, credo, di una lunga serie perché è caratterizzata da un percorso bellissimo, naturalistico, qui alle nostre spalle, Monte Pugliano, le famose doline di Teleseterme, è un'occasione anche per far conoscere il nostro territorio. Quindi questa effervescenza atletica dei putisti della Valle Telesina porta il benessere al nostro territorio. Questa seconda edizione non poteva nascere con la stella migliore, praticamente con 230 atleti, non ci aspettavamo una tale partecipazione perché la manifestazione è praticamente alla sua prima edizione e quindi siamo soddisfattissimi di questa new entry nel nostro panorama dell'atletica nazionale e regionale.